Basta un'assurda partita di calcio e i vaporetti si fanno più rari delle ragazze con le cosce coperte, Sir Montgomery. Questa insana passione per il futbolo ha distrutto l'impero britannico. Sì, becchio mio. Te. Beno male, arriva. Muoviti molti che se non ci vedono si ferma. Sì, sì. Ferma, ferma, criminale. Bucaniere. Oh, ma vi stavo io, cosa credete? Ehi, ferma, ferma. Ehi, ma perché avete fermato le fermate? Criminali, incoscienti, pirata. Oh, inconcepibile. Oh, ma mi prendi il numero, eh? Non finirà così. Teppisti. Fermate, fermate, acchiaffatelo. Avete a che fare con me? Vieni, vieni, vieni. Ecco la polizia, lei ci protegge. Sargente, signora. In ufficio, signora. Ma che roba da pazzi? Anche l'ulto la palla. Adesso mi sistemo io. Ve la do io la partita. Ma insomma, giovanotto, quando arriva questo ispettore? Sta leggendo la sua deposizione. No, sta sentendo la partita. E non è pagato per ascoltare la radio in servizio. Reclamerò a scotteria. La palla spiove. Abbassa l'audio, Collins. La signorina reclami non amalo fuori. Non le consiglio di prendermi in giro davanti al mio cane. Allora, Miss Higgins, il vaporetto fantasma, l'autobus pirata. Francamente io non posso. Non può che cosa. Miss Higgins, lei beve? Grazie, un po' di sherry. Ah, lo sherry, lo sherry, no. Volevo soltanto sapere se prima di vedere quel vaporetto lei ha bevuto qualcosa di assolito. Come usa? Insomma! Va bene, Miss Higgins, lei esagera, so benissimo. Le ho già detto che non l'ho vista in faccia. Allora, già individuato? No, trovo qualche difficoltà, signore. Somiglia a questo, Miss Higgins? No, neanche a questo, sergente. E a questo? No, sergente. Potrebbe essere. Come dice? Cartiera e autobus. Potrebbe essere. Stessa zona, come sostiene Scotland Yard, esisterebbe un rapporto tra le due cose. Potrebbe essere. Ma se è un'ora che glielo dico. Mi ascolti, mi sono maledetta. Via, poche storie, proseguiamo. Si accomodi, prego, segga. Capelli. No, lisci, untuosi e rigabessa. Faccia. Lunga, cavallina. Così. Perfetto. Occhi. Forcini e lascivi, delizioso. Tutte e due? Si. Naso? Grasso. Bocca? Libidinosa. Crudele, all'ingiù. Baffi? Sì. Ispighi. Repellenti. Vediamo il risultato. Pronto? Si identikit. Ispettore, ci siamo. Io ritengo che un buon identikit assicuri un ottimo colpevole naturale. Sì. 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 Venga. Ha visto? Questo non scappa. Lo vedo. Svirgo. Mi chiamoci qui. Bocca, Maria. Su. E' bravo. Vieni, imbracciami. Avanti. Vieni. Ma cosa fa, signore? Signore! Fattore, no! Questo uomo deve essere ubriaco. Completamente ubriaco. Me lo tolga di dosso. E' una vera indecenza. Ecco. Non dovreste farmi salire sull'autobus. Ma... Vole a cambiare posto, signore. No! Io non cambio niente, che si sposti lui. Impossibile. E' un invalido. Disgustoso. Invalido per giunto ubriaco. Beh? Ah! Ma la mano morta è un maiale! Aiuto, aiuto! A nessuno aiuto una signorina in difesa. Che mondo! Fermata! Fermata! Hanno detto fermata, signora. Scusi l'indiscrezione, ma lei dove abita? Immorto, perché? Autista, immorto! Eccoci a casa, signora. Grazie, giovanotto. E' stato veramente gentile. Non puoi immaginare quanto, signora? Arrivederci. Vai. Arrivederci. Bye, bye. Arrivederci. Arrivederci, miei cari. Bye. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti